Adesso come riusciamo, si muovono... Ma pensiamo come abbiamo fatto l'anno scorso, prendiamo... ...la mosca! Sai che abbiamo quella mosca a chiudere la gampietta, la mosca in Peter! Che mangia i piccoli dalle stesse di bambini! Mentre loro, le lorenza di pausa, mentre loro a guardarmi se... E quando noi accidiamo la gampietta della mosca, l'altro... ...e adesso si andrà a posare per l'urde feline! E' sicuro che una sola mosca riesca a fare tutto il lavoro dell'erroi, nonno? Che è la droga del sugo, per chi non lo sapete... E' sicuro che bisogna fare tutto il sugo dell'erroi, nonno? Abbiamo finito l'erroi, nonno? Sì, abbiamo finito l'erroi, ma non ce lo volevo dire! Perché sono andati per più tanti l'erroi! E' deciso cosa? Questa è una censura alla bambuata! E' stata fatta chiaramente con tutti i criteri antisismici, i colori che rendano meglio anche l'impatto oppure la natura... E soprattutto... Ho capito! Guardate che sono i bambini! I bambini sono a scomolino! Noi stiamo diventando per volire la preghetta! Sì, è un corso intensivo di scomolino per i bambini, perché non è importante... E' un corso intensivo di scomolino per i bambini che non li erano solo qua! Mi sembra giusto! Soprattutto perché i bambini quando, diciamo, ci bevono un goccio di far vera... ... 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 e noi gli usiamo un motore per pullare i bambini e noi gli usiamo un po' di problema, è un'ora che mi guarda il testo Oggduzzio, chi capisce? No ma... No, 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 no! Potrete essere? È arrivata.. Scusate, mi dico un attimo, è arrivata su chiare i bambini, secondo me così mi pare in più Poverdo, non lo so. Dici che diventa un... Un'ostura. Un'ostura sesso di facoletta di fracola. Dopo faremo quattro chiacchiere con qualcuno. Scusate. Sì, signore, su una getto e lei, la mia collega, sta connetta di fracola. Porca vacca. Ma qui c'è a te. Non è possibile che una struttura pubblica, di questa natura, consiglia di un incendio, entra e dividera la testa, e poi gli anima, il pescollo sulla testa, e poi la pillola. Ah, certo che veramente i farmaci di oggi fanno calda in inglesa. E' effettivamente dove avete portato... Oddio! Oddio, ti ho considerato! Ma cos'è il senso? Lei ha la voce... come un... rio saliceto. Il rio saliceto lo prendono da te. Ah, io... Ah, ma perché lei ha il rio saliceto della radigiana, ma della noccia. Ma si vede? Adesso, ora, Dio! Vedete, per questo, voglio esportare questo modello didattico additore in filo in Brasile. Quello del Moscone? Eeeh... Un rivelatore? Eeeh... Quello sul retetto, un quello! Il mio rivelatore, il mio rivelatore, in questo asilo, è troppo ciò per lei di un'istituzione. No, no, no. No, questo è assolutamente impossibile, è assolutamente accorto, dal dente del giudizio, quando ci sono dei... 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 del dente del giudizio. No, no. Noi, prendiamo il... Prendilo! Prendilo! Prendiamo... la cassiera! Prendiamo il cotone con la cassiera! Passiamo il cotone con la cassiera! Prendi, forniti, tira! E' un strigio! Ok? E' adesso... Aspetta, perché è appena arrivato un telegramma, dice... STANCA!!! Oh, no! Sono tantiate! Non c'è, sì, no! nooo e abbiamo su un telegramma piuttosto se non possiamo usare su di loro il ferillo d'alta nooo 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 lei mi ha scostumato e che fate noi facciamo la terza e che fate adesso non è possibile che ho comandato ahahah 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 preparate un fraccio lui vuoi il formaggio e lo vuoi quello di un po' ahahah ahahah e ci vogliono liberare ahahah due cinesi mi sembrano due calciotti ahahah 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 e ahahah ahahah io ho provato su questo video che il vibratore non va non si addormenta è rotto ahahahahah ecco era nella partita di quelli guatti e tu li dati via lo stesso tanto tutti i miei anni se ne accorgero il suo ma è pronto qui insieme con un altro signore si conservate che loro erano l'islam ahahah io ne avevo un bagno sospetto ah no ma che cattavano fiosi ah ma che erano fiosi voi non avete capito nulla noi ci sono finti cinesi si per copiare delle cose qua da noi i bambini i bambini ahahah ma lui è con noi eh ma che ci siete qui qui no lui è il suo di non si Grazie.